E' il 10x zoom del notte 8 Bene niente a parte Mettacina a fuoco E' con la luce giusta si Niente Questo è il cavo Va avanti va avanti avanti C'è uno stop Questo qua permette dentro a pressione Vabbè ma io che me ne frega Lo taglio Lo taglierò Conservando il colpo E dopo praticamente Qua vedete va a finire lì Quindi presumo che Farò Un taglio Due o tre centimetri Non so se è fuoco Eccolo lì E probabilmente questa zona qua Dopo un Questa zona qui Fuoco Eccolo lì In questa zona qua Dove Vedete questa cubetta Probabilmente Continuando a Continuando a Muoverlo A parte che questo mouse qua Non si muove E però Ogni tanto lo muovo Muovi oggi Muovi domani Si che il cavo E' telato L'hanno messo Ma guarda Il termo restringente Fuoco 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 Hanno messo questa qua Il termo restringente Fuoco Dove Va bene Dove Dove Ce la possiamo fare Madonna Va bene Questa guardia Nel termo restringente Dove Che non mette a fuoco Oh ecco Questa guardia Dove Dove C'era L'interno Però Serve Soprattutto fuori Vabbè Ci penserò Mi diverterò A saldare Ciao